Sembra molto aggressivo questo maiolo! Ciao bambini! Ciao Orso! Ciao Masha! Cosa avete qui? Oh, noi oggi abbiamo una cosa bellissima! Guarda! Sono il re di tu robot! Masha, cos'è? Sono dei robot come Transformers, ma sono molto meglio! Guarda, apriamoli! Va bene, vi aiuto ad aprirli così vediamo subito cosa c'è dentro! E inizia da questo che è mio, non da quello di Orso! Va bene Masha, cos'è? Avete litigato oggi? No, no, perché sono un po' arrabbiata! Però dai, apriamo! E apriamo, sedici qui! Bambini, siete pronti? Apriamo sto scotolo gigante! Dobbiamo togliere tutti i stracci, vediamo! Oh, uno ha tolto! Guardate! C'è la collezione dei Ready to Robot Build Swap and Battle! Ma quali sono? Uno, due, tre! Tantissimi per contare! Look for the Ultra Rare Light Up Figuro! Ci sono anche le figure rare! Ci sono i piloti! E i Bot Blasters! Quali che hanno i blaster da sparare? E i Battle Pugs! Oh, non vedo l'ora di vedere chi abbiamo noi qua dentro! Con un robot! Togliamo il primo strato e apriamo questi sacchettini! Azzurro! Chi è? Questa è la testa! Ok, abbiamo un pezzo della testa, lo mettiamo qua dentro! Poi abbiamo un'altra istruzione! Abbiamo l'orso che spiega tutto! Togliamo l'altra parte! Giusto orso? Sì, sì, continua così! Vediamo chi c'è che si nasconde! Che robot troviamo! Troviamo, troviamo! Un'altra sacchettina arancione! Vediamo chi c'è! Ma questa mi sembra una gamba! Sì, sarà una gamba di robot! Poi un altro sacchettino! Un'altra mano! Ma ha tantissimi pezzi questo robot! E l'altro sacchettino! Oh, oh! L'ho rotto! E un'altra gamba! Ma gli altri pezzi dove si nascondono? Ah, di qua! I sacchettini verdi! Ma è un robot super colorato! C'è un'altra mano! Ma quanti mani ha? Apriamo anche questa! E un'altra gamba! Tutta modificata con le dita arancioni! E un altro sacchettino! E un'altra gamba! Adesso dobbiamo costruire il nostro robot! Qui! Mancano le mani! Una mano di qua! Bello che puoi togliere e rimettere pezzi dove vuoi! Quindi puoi mettere anche la gamba su e la mano sotto! E questo dove lo mettiamo i bambini? Qua, giusto? Eh, posso dire? Sì, giusto! Metti anche l'altro! Un orso, ma mi pare che manca qualcosa, no? Eh sì, hai dimenticato di schiacciare qui! Perché devo schiacciare lì? Perché c'è la testa del robot! Davvero! Eh, se ci credi scopri lo schiaccia! Bambini pronti? Avete visto? C'è pure scritto! Push! 2, 3 Oh! È volato! Ma cos'è un slime? Oh! Guardate, bambini! C'è un slime! Tutto viscido! Oh! Ma dobbiamo tirarli fuori la testa, però! Ma chi è? È un maiale! Un maialino cattivo! Guardatelo! Oh sì! Sembra proprio cattivo! Forse si è svegliato male stamattina! Guardate! Tish, 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 tish! Bum! Sembra molto aggressivo questo maiale! Guardate qua che naso gli occhi! Sollevate insieme le sopracciglia! Lasciamolo qui un attimo! Apriamo il prossimo! Orso, sei pronto? Ready, tu, rovo! Bellissimo! Torniamo il secondo strato! Secondo me, qui dentro c'è un... Se abbiamo trovato già il maialino possiamo trovare un robopasso! Sì! O i Kieperman! Guardate bambini quanti sono! Vediamo! Oh! C'è un'altra postina azzurra! Gigante! Vediamo! Allora la testa c'è! Una! Poi! Un altro, due, tre sacchettini! C'è anche lo slime qui! Apriamo la testa! La gamba! Eccoci qua! Un'altra gamba! Wow! Quanti pezzi! Possiamo anche scambiarli! Possiamo far diventare il nostro robot! Cioè il maialino! Da mezzo a ragione lo facciamo a mezzo verde! Così forse Rida smette di essere fattivo! Vero bambini? Oh! Un'altra mano! Ci siamo, ci siamo! Qua siamo quasi al completo! Vediamo di costruirla! Allora il corpo è qui! La gamba! Una! E mettiamo tre gambe bambini! Sì! Metti le tre gambe! No! Non farlo! Dopo non è più bello! Va bene Masa! Come dici tu? Mettiamo un altro gombo! Orso! Questo l'hai fatto tu vero? Sì! Va bene! Dico che l'ho fatto io! Vediamo chi è dalla collezione! Allora verde! Si chiama Hogwash! Guardate i bambini! Wow! Ma queste si mettevano dietro! E la parte più bella! Schiacciiamo! Wow! È andato via anche questo slime! Apriamo! Sì! Sì! È bellissimo! Adesso ci gioco io con loro! Dov'è l'altro robot? È qui! È qui! Giocava! Tof! Tof! Bellissimi bambini! Se vi è piaciuto il video e il nostro robot mettete mi piace! Orso andiamo a giocare? Sì! Andiamo!